L'agenza rossa-azzurra è impegnata in queste ore a confrontarsi con Giada Coppina per il passaggio di proprietà del club Etneo, mentre invece la squadra è già praticamente in viaggio per raggiungere il ritiro laziale dove domani sfiderà la Viterbese. Due partite, una negli uffici di Torre del Grifo, l'altra sul campo a Viterbe. C'è un weekend che dirà molto, anche se non tutto, sulle sorti societarie del calcio Catania, con l'arrivo di Tacopina in città per dare l'accelerata alla chiusura della trattativa per la cessione delle quote di Sigi. L'avvocato americano arriverà con i suoi consulenti, ma resterà soltanto poche ore e domani andrà via lasciando Dante Scibilia. E martedì arriverà anche l'avvocato Salvarena, che dovranno curare tutti gli aspetti del contratto di cessione. Tacopina tra oggi e domani dovrebbe incontrare il sindaco Pogliese e limare alcuni dettagli della proposta d'acquisto. Sigi è intenzionato a vendere, ma non a svendere e ha pronto già un piano B e anche uno C. La squadra intanto oggi ha effettuato la seduta di rifinitura prima della partenza per il Lazio. La trasferta di domani pomeriggio a Viterbe è una di quelle che riserve insidie nascoste. La squadra di Taurino vuole rompere il digiuno interno e giocherà senza alcuna remora. Il tecnico laziale ha la rosa quasi al completo, nonostante alcuni elementi non siano al top della condizione come De Falco e Palermo. Il rebus principale in attacco, dove Tunkara non ha i 90 minuti nelle gambe e potrebbe essere sostituito da Rossi. Peppe Raffaele, che tornerà in panchina dopo la squadifica, invece deve fare i conti con le squadifiche di Tonucci e Welbeck. Potrà contare anche su Clayton, Rosai e Sarao, che hanno recuperato in extremis e dovrebbero essere tutti e tre della partita sin dall'inizio. Torna anche Zanchi in difese, Maldonato dopo la squalifica in attacco dovrebbero giocare Sarao e Pecorino, ma piccolo è più di un'alternativa in questo momento. Raffaele, che sta ragionando sul 3-5-2, infatti non è scuso, possa cambiare anche il modo di giocare, sfruttando la possibilità di schierare anche l'ex della Cremonese. Quindi giocare con quel 3-4-3 provato in settimana per avere maggiore incisività davanti. Un'opzione che resterà sul tavolo di Raffaele sino alla riunione tecnica di domani mattina. Grazie a tutti.